Nel 2018 su Sky arriverà Il Miracolo, la serie tv in 8 episodi prodotta da Mario Giannani e Lorenzo Mieli per Wild Side, scritta e sceneggiata da Niccolò Ammanniti. Lo scrittore italiano, premio strega nel 2007 e autore di titoli di successo come Io non ho paura e Come Dio comanda, è uno dei più tradotti all'estero. In questa nuova avventura ha firmato la sceneggiatura con Francesca Manieri, Francesca Marciano e Stefano Bises e la regia con Francesco Munzi e Lucio Pellegrini. Il Miracolo racconta il ritrovamento di una statuetta di plastica della Madonna che piange sangue durante un'operazione di polizia. Al mistero non c'è risposta ma la potenza di quell'enigma farà impazzire e deragliare le vite di tutti quelli che entreranno in contatto con questo evento. In questi giorni è stato intanto diffuso il teaser trailer, brevissimo e inquietante al punto giusto del Miracolo. Nel cast troviamo Guido Caprino, Alvaro Orvacher, Lorenza Indovina, Elena Lietti e Tommaso Ragno. Appuntamento nel 2018 su Sky.